ok quella che stai guardando la mia faccia attapirata di livello 4 e ti avviso che il massimo livello di attapiramento che sono in grado di raggiungere è il 5 quindi ci siamo molto vicini perché ho la faccia attapirata ho la faccia attapirata perché vorrei farti vedere questo video quanto prima perché è importante che tu sappia tutte quelle che sono le novità relative all'ultimo patch tuesday e quindi agli aggiornamenti con i relativi motivi come ho scritto nel titolo per installarlo immediatamente ma anche metterti in guardia contro alcuni potenziali problemi che si tira dietro e allora perché non posso mostrarti questo video perché youtube avruto ha avuto la brillantissima idea di chiuderci il canale per una settimana a seguito di un video assolutamente innocuo che avevano già visto un centinaio di volte tutti quanti gli abbonati perché era uscito in anteprima e che a quanto pare era invece pregno di materiale pericolosissimo che poteva distruggere tutti quanti i nostri computer e a nulla sono valsi tutti quanti i rituali apotropaici e i vari gesti scaramantici che faccio prima di produrre un video ma torniamo a noi cercherò comunque di pubblicare questo video quanto prima e se proprio non dovessi riuscire a pubblicarlo sul canale principale lo vedrai sul lato oscuro il nostro canale secondario di emergenza a cui ti consiglio assolutamente di iscriverti proprio per casi come questi dato che normalmente non sto pubblicando più niente ma in caso di necessità andiamo a finire lì ma adesso non perdiamo altro tempo e andiamo avanti con l'argomento del giorno e quindi se ti senti pronto iniziamo lo facciamo lo stesso tu cosa dici ma sì dai facciamolo di che cosa sto parlando del nostro famosissimo rituale apotropaico che serve come ben sai o meglio servirebbe a tenere a bada le insidiosissime come abbiamo appena visto divinità del tubo disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va e vabbè veniamo a noi e parliamo di quello che è successo martedì scorso o almeno spero nel momento in cui vedrai questo video perché è uscito il patch tuesday di febbraio 2025 un patch tuesday denso di importantissime novità e che a mio avviso ti anticipo va assolutamente scaricato ma con delle precauzioni vediamo quali a parlarcene hardware upgrade che ci informa che microsoft ha distribuito il suo consueto patch tuesday di febbraio 2025 introducendo una serie di aggiornamenti per windows 11 gli utenti infatti delle versioni 24 e 23 h2 possono finalmente ora beneficiare di nuove funzionalità come vedremo miglioramenti nell'interfaccia utente e soprattutto e questo è veramente importante di correzioni di sicurezza fondamentali per utilizzare con tranquillità il nostro computer tra le novità più importanti abbiamo innanzitutto la possibilità di riprendere l'editing dei file di onedrive modificati su dispositivi mobili direttamente su desktop inoltre le anteprime delle app sono state migliorate sia visivamente che nelle animazioni offrendo un'esperienza più reattiva quando il cursore passa sopra le icone inoltre per i dispositivi più recenti quelli dotati di unità n più la neural processing unit è stata aggiunta direttamente nella barra delle applicazioni un'icona dedicata a windows studio effect vabbè ma parlando di novità forse un pochino più interessanti per quanto concerne l'explora file ci sono stati diversi aggiornamenti in particolar modo qualcosa volta a migliorare l'esperienza utente tra cui spicca il cosiddetto mac effect come lo chiamo io ovvero la possibilità di riaprire automaticamente all'avvio del computer le cartelle che avevamo lasciato aperte nel momento in cui lo avevamo spento e adesso ti faccio vedere immediatamente come attivarla nel caso in cui tu fossi interessato per farlo ti basterà aprire una qualsiasi finestra di esplora file cliccare sui tre puntini andare nelle opzioni e scegliere la voce visualizzazione in questa scenderemo in basso fino a trovare la voce ripristina cartelle aperte all'accesso cliccheremo quindi su applica e successivamente su ok e il gioco sarà fatto sorvolerei su novità veramente epocali come ad esempio l'inclusione del comando crea nuova cartella nel menu contestuale nel riquadro sinistro di esplora file e parlerei invece di novità più importanti ovvero le correzioni di bug introdotte da questa nuova versione in particolar modo è stato risolto il problema relativo all'aggiornamento di data e ora nei file che venivano copiati e successivamente il problema del mancato aggiornamento delle icone nel momento in cui andavamo ad effettuare sul nostro pc un cambio di tema inoltre microsoft ha finalmente cosa che interesserà a molti risolto il problema di sovrasaturazione di alcuni giochi quando veniva utilizzata la funzione di hdr automatico migliorando in questo modo la fruibilità dei giochi stessi che diversamente sarebbero apparsi con dei colori estremamente caricati gli aggiornamenti di cui stiamo parlando sono il kb 50 51 1987 che porta la build di windows 11 24 h2 alla versione 26.131 94 mentre l'aggiornamento kb 50 51 989 è destinato a windows 11 23 h2 e a seconda delle versioni porta la build alla 22 621 48 90 oppure alla 22 631 48 90 ma i veri motivi per effettuare quanto prima questi aggiornamenti sono innanzitutto le 55 vulnerabilità di cui 4 zero day e 2 attivamente sfruttate che vengono risolte e quindi mi raccomando per la sicurezza del tuo computer fai questo update quanto prima e inoltre non meno importante questo aggiornamento ha risolto il bug relativo alle periferiche audio usb che come sappiamo dopo il penultimo aggiornamento non funzionavano più correttamente ha risolto il problema relativo alle fotocamere e alle webcam usb che non venivano riconosciute correttamente dal nostro computer quando venivano accese ha risolto i noiosissimi problemi relativi alle reti wifi e in particolar modo quel blocco della finestra di dialogo della sicurezza di windows durante la fase di accesso a determinate reti sul fronte invece dei problemi causati da questo aggiornamento a quanto pare e per il momento incrociando le dita stavolta ci è andata veramente di lusso perché gli unici problemi segnalati con questi aggiornamenti sono la difficoltà per alcuni giocatori che utilizzano dispositivi arm di scaricare e giocare a roblox un po più grave ma non nuovo come problema perché si è presentato già nell'ottobre 2024 e quindi non è stato ancora risolto nemmeno da questo aggiornamento il problema relativo alle open ssh cioè le secure shell che non riescono ad avviare correttamente le loro connessioni se non sai nemmeno di che cosa stiamo parlando significa che non ti tocca minimamente così come molto probabilmente non ti tocca l'ultimo dei problemi che non dovrebbe appunto riguardare gli utenti privati ovvero che i dispositivi con alcuni componenti site tricks installati non riescono ad effettuare correttamente l'installazione di questo aggiornamento tutto sommato abbastanza bene siamo arrivati dolorosamente alla fine anche di questo video che purtroppo come anticipato non so né se né come e né quando riuscirà a vedere la luce dati i tempi bui che gravano sul nostro canale ed è proprio durante questi tempi bui che diventa più importante utilizzare la comunicazione anche sui nostri canali secondari per tenerci sempre informati sulle ultime novità e per canali secondari intendo sicuramente il nostro canale il lato oscuro ma anche la nostra chat su telegram il nostro gruppo su telegram e i social network alternativi come tik tok ed instagram di cui ti lascio tutti quanti i riferimenti nella descrizione di questo video e detto questo possiamo passare finalmente ai ringraziamenti che quest'oggi sono dedicati tutti quanti a te mio caro gente che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e a questo punto non mi resta che salutarti e darti come di consueto incrociando le attività e sperando bene appuntamento alla prossima